In questa seconda parte di trasmissione faremo il punto sulla sanità pugliese, lo farò, lo faremo con i gentili ospiti, il dottor Dino Del Vecchio, presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri per la provincia BAT. Buonasera. Grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. E poi Giuseppe Papagni, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche per la provincia BAT. Buonasera Luca, un saluto a tutti i telespettatori. E ci ritroviamo. E ci ritroviamo infatti. Grazie per aver accolto ancora una volta il nostro invito e per la disponibilità. Allora, ad entrambi tracciamo una panoramica generale. Che situazione sta vivendo la sanità pugliese e la sanità nella sesta provincia, la BAT. Chiaramente voglio una panoramica generale e poi entriamo nello specifico dei vari problemi. Dottor Del Vecchio. Io credo che il problema principale di questo territorio e io credo anche il problema principale della Puglia, se non di tutto il meridione, è il definanziamento di questo territorio in ambito sanitario. E' noto a tutti che il riparto del Fondo Sanitario Nazionale penalizza le regioni del Sud, penalizza la Puglia, penalizza anche la BAT. Ed è chiaro che siccome le nozze non si fanno con i fichi secchi, questo ha delle ricadute sulla qualità dei servizi che vengono offerti da questi territori notevoli. Una ricaduta che significa meno operatori occupati, che significa meno tecnologie, che significa meno livello tecnologico delle cure e offerte, che significa migrazione sanitaria che economicamente è un elemento di passività per il nostro finanziamento regionale. Significa un depauperamento del sistema sanitario pugliese e sanitario della BAT che determina un disagio notevole, soprattutto a carico dei cittadini. E' ovvio che quando sottolineiamo questi aspetti di questa situazione sanitaria non pensiamo solo e solamente agli operatori sanitari, ma pensiamo proprio al disagio che i cittadini devono sopportare. Vogliamo dirne una per tutte che può sembrare un facile slogan ma che non è le liste di attesa. Ritorniamo su quelle, voglio entrare nello specifico delle liste di attesa. Papagni? Sì, quando parliamo di salute parliamo di un bene che è sancito, quindi un diritto dei cittadini sancito della Costituzione, per cui ovviamente è di interesse pubblico, la sanità è pubblica e come diceva il collega Del Vecchio abbiamo una sanità pugliese che è definanziata perché appunto il Fondo Sanitario Nazionale mette a disposizione della Puglia rispetto anche ad altre regioni meno fondi. Noi prendiamo sempre come riferimento quando facciamo questo confronto l'Emilia-Romagna che si avvicina per gli standard che è il territorio per i cittadini ovviamente che ospita sia dei miliardi di anni che la Puglia, ovviamente c'è una differenza sostanziale che ad esempio l'anno scorso riguardava appunto 900 milioni di euro, per cui è ovvio che definanziando un sistema sanitario regionale si vanno ovviamente a tagliare poi servizi ai cittadini, si vanno a tagliare ovviamente poi posti di lavoro perché non si possono assumere operatori sanitari, quindi c'è una carenza dei servizi dovuto anche al deficit di risorse umane investite nel bene pubblico che è la sanità. Oltre a questo che altro problema vive la categoria degli infermieri? Allora diciamo che la categoria degli infermieri, noi abbiamo dei dati che sono stati elaborati dal centro studi della Federazione Nazionale delle Professioni Infermieristiche che parlano appunto di un deficit di personale infermieristico nella sola Puglia di 3.931 unità, quindi quasi 4.000 infermieri, questo dato da dove deriva? deriva ovviamente dai dati OMS, quindi Organizzazione Mondiale della Sanità, che ovviamente ci dice quali sono gli standard di sicurezza che appunto vanno, se applicati, a ridurre del 20% la mortalità dei nostri pazienti. Ogni infermiere dovrebbe seguire sei pazienti, però in Puglia si arriva a toccare delle punte che ovviamente non sono quelli, cioè 1 a 12. Ecco perché in questo contesto ovviamente sappiamo che la Puglia viene da un piano di rientro, lacrime e sangue che è costato a tutti i cittadini e soprattutto agli operatori sanitari che in questo sistema hanno garantito la tenuta di un sistema che era deficitario, devo dire con grandi sacrifici, quindi sia infermieri, medici, ma tutti gli operatori sanitari ovviamente hanno fatto del loro meglio per tenere in piedi un sistema sanitario che in quel momento purtroppo subiva dei tagli lineari e quindi una sanità pugliese che appunto non dava quelle risposte ai cittadini di salute che venivano richiesti. Ora siamo in piano operativo, siamo usciti dal piano di rientro, siamo in piano operativo. Tanto che ci sarà un concorso pubblico per 566 posti in Puglia per gli infermieri. Sì, 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 è una buona notizia. È una buona notizia, noi abbiamo avuto già due anni fa un altro concorso pubblico che ha dato fiato un po' a quelle che erano le esigenze delle aziende sanitarie pugliesi, una graduatoria di 1300 infermieri che ovviamente si è esaurita in pochissimo tempo, ovviamente non tutti hanno accettato di lavorare perché molti giovani infermieri hanno dovuto migrare per poter lavorare e quindi andare anche all'estero, infatti ci sono tantissimi infermieri italiani che vengono formati, quindi vengono formati in Italia. Studiano qui, insomma. Studiano qui, ovviamente anche qui c'è un dispendio, una dispersione di risorse pubbliche anche e vanno all'estero per poter lavorare, quindi tantissimi infermieri hanno dovuto... Insomma li formiamo e li perdiamo. E li perdiamo, esatto, esatto. E questo è quello che succede purtroppo in Italia, ma ovviamente il Sud ha sofferto un po' di più per via di queste situazioni che hanno causato appunto un deficit della sanità, quindi ora siamo, dicevo, sotto piano operativo, quindi sotto controllo dei ministeri competenti, MEF, Ministero della Salute e quindi siamo in una fase di uscita da questo piano di rientro e ovviamente, come dicevi tu, come ricordavi, c'è un concorso che è alle porte per 566 infermieri e lo stesso numero mette a disposizione Napuglia per far rientrare questi infermieri dalle altre regioni italiane attraverso una mobilità extra-regionale. Quindi in totale 1.132 posti che vengono fuori appunto dai fabbisogni che sono stati elaborati dalle aziende sanitarie regionali. Nuovi reclutamenti anche per i medici? Nuovi reclutamenti anche per i medici perché, come diceva Giuseppe, quello che, il fenomeno che ha interessato la sanità italiana è proprio anche questa perdita di risorse umane. Noi con il piano di rientro e con i sacrifici che sono stati fatti da parte dell'amministrazione, perché no, è giusto e onesto anche riconoscere questo, ma soprattutto per i sacrifici che gli operatori della sanità hanno fatto, sobbarcandosi, il blocco degli aumenti stipendiali, il blocco del turnover, il che vuol dire che se un operatore sanitario, un medico, un infermiere andava in pensione non veniva sostituito da una nuova unità. E come si faceva in quel caso? Il surplus degli orari di lavoro. Ecco come si faceva, attribuendo a quegli stessi operatori sanitari residuali, cioè che avanzavano, perdonate l'espressione, nei vari reparti, turni di lavoro più stringenti, più massacranti. E questo ha un risvolto di natura sociale non di poco conto, perché se per esempio sono aumentati gli episodi di violenza a carico degli operatori sanitari, non è estraneo a questo fenomeno, non è estraneo e non può essere estraneo, anche lo stress a cui gli operatori sanitari sono sottoposti. Ed è chiaro che una persona sotto stress è facile che possa perdere anche quella capacità di accoglienza, quella capacità di accettazione, quella capacità di mediazione, che è necessaria in tutti i contesti dove le relazioni umane sono al centro dell'operatore, al centro dell'azione del medico o dell'infermiere. Come anche da parte dei cittadini, il trovarsi in situazioni organizzative, penso per esempio alle lunghe attese in pronto soccorso, dove ciascuno è portatore di un bisogno che ritiene centrale e molto spesso poco si interessa di quello che è il contesto generale, porta ad un allentamento di quell'autocontrollo sociale, relazionale, che invece è assolutamente necessario in contesti di questo tipo. E questo ha fatto sì che gli episodi di aggressività oggi sono al centro anche dell'attenzione politica. sappiamo bene che c'è una legge in Parlamento che attribuisce agli operatori sanitari il ruolo di pubblico ufficiale e inasprisce le pene per chi aggredisce un operatore sanitario. E santo cielo vorrei proprio vedere, perché non credo che una persona che è sana di mente può pensare che un operatore sanitario stia lavorando contro l'interesse del cittadino. E allora io credo che bisogna veramente recuperare il senso di appartenenza, il senso di civiltà che dovrebbe interessare sia i medici, gli infermieri, tutti gli operatori sanitari, ma anche i cittadini. Anche a loro noi rivolgiamo un appello, riconosceteci questo ruolo di beneficialità. Noi siamo lì per rispondere ai vostri bisogni. E se qualcosa non funziona come dovrebbe, il nostro risentimento non deve essere diretto nei confronti di chi invece è in prima linea, ma dovrebbe essere civilmente e politicamente diretto verso quelle strutture politiche che hanno la responsabilità organizzativa dei sistemi sanitari. Io credo che questo sia fondamentale, è un recupero di civiltà che dobbiamo riacquisire un pochino tutti quanti. Quindi secondo voi non c'è bisogno di un intervento sulla sicurezza, di una maggiore sicurezza? Io non lo penso, lo dico con molta franchezza. Non si può militarizzare l'ospedale, il pronto soccorso, la guardia medica, non ha senso. Non è certo, a parte il fatto che praticamente non è possibile. Io ho avuto un incontro tempo addietro con il prefetto della nostra provincia, la quale manifestava la sua difficoltà nell'assicurare un maggiore controllo del territorio. Ed è tanto vero questo che i pronto soccorso si sono dotati di vigilanza privata, non di una vigilanza pubblica, non delle forze dell'ordine. E questo avrà anch'esso un significato. E io riconosco questa difficoltà da parte delle forze dell'ordine di assicurare un maggiore controllo perché hanno già loro dei problemi di sotto organico. Ed è difficile anche per loro controllare il territorio. Ma da un punto di vista culturale io credo a noi operatori sanitari non convenga sentirci in un fortino assediato. Io credo che a noi convenga sentirci in un ambiente dove venga riconosciuta la nostra professionalità ma anche la nostra umanità. Ma anche il nostro ruolo nei confronti di chi a noi si rivolge che è un ruolo di aiuto, di assistenza. È assurdo pensare culturalmente che questo non accada. Ecco perché dico che lo sforzo deve essere uno sforzo collettivo e uno sforzo generalizzato. Ma qui ancora una volta noi dobbiamo, abbiamo il dovere di riportare l'attenzione sulla dotazione organica delle strutture sanitarie. sul territorio, non soltanto gli ospedali. È un gravissimo errore pensare che la sanità si esaurisca nell'attività ospedaliera. Un territorio potenziato, un territorio che liberi l'ospedale da una serie di incombenze che non gli appartengono per attribuzioni di compiti fa sì che anche l'ospedale funzioni meglio perché l'ospedale è il luogo dell'alta tecnologia, è il luogo della specialità è il luogo dove lei, io e tutte le persone che ci ascoltano dovremmo avere la certezza di trovare le cure migliori a casa nostra e non fuori di casa nostra. Ma se l'ospedale si deve occupare anche di una serie di incompenze che il territorio non è attrezzato per recepire beh, è allora che il sistema scoppia. È evidente che se il chirurgo di reparto che dovrebbe stare in reparto e in sala operatoria deve occuparsi anche dell'attività ambulatoriale rivolta al territorio non basteranno mai le persone. E allora bisogna capire che passare dalle parole il territorio come il centro nevralgico del sistema sanitario mondiale deve diventare veramente tale e può diventare tale soltanto se viene messo nelle condizioni di poter essere tale. E oggi devo dire che i progressi che stiamo facendo in questa direzione non sono da poco. Oggi nella contrattazione, per dirne una, della medicina generale vi sono due elementi fondamentali uno, il personale infermieri e operatori amministrativi all'interno degli studi di medicina generale e in secondo luogo anche la diagnostica di primo livello perché fare un elettrocardiogramma una spirometria un'ecografia è alla portata di qualunque medico i corsi di formazione in medicina generale hanno corsi di ecografia corsi di elettrocardiografia corsi di spirometria cioè i ragazzi, i giovani mi permetto di dire per la mia età i ragazzi, i giovani medici oggi vengono formati per fornire queste prestazioni. Questo significa fare veramente una rivoluzione copernicana in questo paese e significa assicurare ancora un sistema sanitario uguale, universale per tutti i cittadini indipendentemente come recita la Costituzione la 833 indipendentemente dal censo indipendentemente da qualunque altro elemento divisivo il nostro sistema è un fiore all'occhiello se solo veramente la gente ci pensasse un attimo non esiste paese al mondo che offre con un sistema sanitario un servizio sanitario come quell'italiano la nostra 833 che qualche liberista d'accatto oggi mette in discussione è un valore universale è un valore che ci invidiano tutto che studiano tutti quanti noi assicuriamo livelli sanitari di altissima qualità nelle classifiche formulate da qualunque organizzazione indipendente guarda caso siamo sempre nei primi posti ma sapete qual è il paradosso siamo quelli che spendono di meno per la sanità sia in termini rispetto al prodotto interno lordo sia in termini assolute in quota pro capite spendiamo di meno e offriamo servizi di qualità con questo che cosa voglio dire che va tutto bene ma niente affatto dico che abbiamo ancora molto da lavorare ma dobbiamo avere dei punti di riferimento politici e culturali sì allora a proposito delle aggressioni verbali e fisiche quindi no maggiore sicurezza ma maggiore consapevolezza civica da parte del personale e da parte degli stessi cittadini le chiedo di rispondere a questa domanda e poi dalla regia mi dicono che abbiamo una chiamata da fuori diciamo che bisogna recuperare quella fiducia con i cittadini che probabilmente si è smarrita ma come diceva il collega del vecchio per colpe politiche per via appunto della carenza delle dotazioni organiche perché il fenomeno del sovraffollamento dei pronto soccorsi un fenomeno un fenomeno riconducibile soprattutto a questa problematica perché i cittadini hanno bisogno di ricevere quelle risposte sulla propria salute e ovviamente non essendo il territorio e quindi la grande sfida della sanità futura è proprio il territorio non trovandole sul territorio quelle risposte ovviamente c'è questo problema che oggi tutte le aziende ospedalieri direi di quasi tutte di quasi tutta Italia stanno soffrendo allora la Puglia da questo punto di vista sul territorio ovviamente ha fatto poco diciamo così perché non ha investito sugli infermieri non ha pensato di fare come altre regioni stanno facendo investendo sugli infermieri di famiglia ad esempio quindi mettendo a disposizione dei pazienti quindi dei cittadini un infermiere che si prendesse carico delle cronicità ed è lì la vera sfida del futuro della sanità del futuro io vorrei ricordare solo una citazione che siccome questo è il 2020 ricorre il bicentenario della Florence Nightingale il bicentenario della nascita che è la fondatrice dell'infermieristica moderna nata a Firenze 200 anni fa questo è il 2020 l'anno della celebrazione della sua nascita proprio la Florence Nightingale era una visionaria aveva insomma anticipato un po' i tempi dicendo che appunto alcune patologie dovevano essere curate appunto a domicilio quindi a casa quindi come vedi già da allora c'era c'era questa visione di eliminare appunto il luogo ospedaliero come appunto luogo di cura perché alcune patologie quelle croniche ovviamente possono essere come dire curate a casa a domicilio quindi il grosso problema oggi della sanità e quindi vengo alla tua domanda quindi della violenza sugli operatori sanitari è proprio dovuta a una mancata risposta ai problemi di salute dei cittadini che purtroppo vedono vedono diciamo l'operatore come l'unico interlocutore pubblico in quel momento a cui scaricare appunto questa diciamo rabbia che appunto deriva da interminabili attese pronto soccorso magari anche per delle situazioni che potevano essere appunto risolte molto prima e quindi non rivolgendosi alla struttura ospedaliera ma vi dicono dalla regia che in realtà il nostro spettatore ha chiuso prima lei ha fatto riferimento dottor Delvecchio alla questione delle liste d'attesa sì anche qui la lista d'attesa è ancora una volta un fatto soprattutto di natura organizzativa prima le dicevo che se nell'ambito di una struttura ospedaliera il medico l'infermiere perché il medico non agisce mai da solo e l'infermiere non agisce mai da solo quindi quando parliamo di sanità parliamo di un sistema parliamo di infermieri di medici di os di collaboratori non dimentichiamolo mai questo non esiste un soggetto principale è un soggetto secondario non l'ho mai pensato lo dico a Giuseppe come infermieri non l'ho mai pensato non l'ho mai pensato e continuo a non pensarlo il nostro lavoro è necessariamente un lavoro di equipe e quando disfunziona qualcosa disfunziona tutta la catena dell'equipe se l'equipe ospedaliera deve occuparsi di incombenze che non sono strettamente pertinenti alle loro competenze ai loro ruoli è evidente che a valle vi è tutto un ingolfamento di servizi resi alla cittadinanza che determina una lista di attesa necessariamente lunga se l'organico dell'anestesia che prevede 70 medici si ritrova nella nostra ad averne 50 beh allora mi dite come è possibile che un'ernia un tunnel carpale un appendicite quindi sto parlando di una patologia basale perché grazie al cielo la patologia d'urgenza quella riusciamo sempre a garantirla bisogna dirlo riusciamo sempre a garantirla però tutta quella patologia di base che coinvolge la pneumologia piuttosto che la diabetologia oltre che all'asse chirurgico è ovvio che risenta poi di una scarsità di prestazioni rese che determinano un allungamento delle liste d'attesa considerando elementi che nel frattempo si sono evoluti in maniera contrastante allora abbiamo perso 3.000 medici abbiamo ranghi ridotti in tutto il settore sanitario badate bene continuo a dire che io non parlo solo dei medici mi piace parlare del sistema sanitario abbiamo perso personale stiamo cercando di recuperare rendiamo merito a chi fa questo ma contemporaneamente che cos'è accaduto contemporaneamente è accaduto che l'età media della popolazione si è elevata in maniera incredibile oggi l'aspettativa di vita è talmente alta che ci mette in sedia difficoltà perché perché come diceva Giuseppe è aumentata la cronicità perché è difficile non pensare che un cittadino una persona che arriva mediamente a 82 83 85 anni non abbia una serie di patologie che sono solitamente patologie croniche che devono avere una risposta in un setting territoriale di specialistica ambulatoriale dedicata che deve liberare le risorse ospedaliere e allora si vedrete come le liste di attesa si riducono qui non si tratta di mettere un attacchio in più no no perché quando si mette un attacchio in più contemporaneamente aumenta anche la domanda è chiaro 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 Alexa mi dice che è finito il nostro tempo e grazie al dottor Del Vecchio grazie al dottor Papani grazie per questo intervento grazie a voi sicuramente ritorneremo sulla sanità e cercheremo di approfondire ulteriormente grazie a voi